Dunque, proporrei il lavoro del signorelli che, no, partiamo col Cortona, abbiamo diversi prodotti di questo laboratorio. L'istituto Vegne e Capezzine ha partecipato fin dall'inizio alla sperimentazione, il gruppo è nato nel 2014-2015, quindi nel 2015 siamo partiti pienamente perché c'era stata una fase preparatoria. Questo è un progetto, purtroppo la docente oggi non è presente per motivi scolastici, docente per un giorno, quindi insegnare ai ragazzi sostanzialmente a lavorare su concetti, a fare astrazioni, mappe, categorizzazioni e quindi ecco, questa attività è stata svolta sul tema dell'industria turistica, addirittura redigendo un calendario di lezioni, quindi la metacognizione, vedete lezioni di ogni coppia contenuti secondo uno schema, realizzazione di un pannello, quindi infine mega mappa concettuale. Un lavoro quindi che ha insistito sulle competenze chiave dell'imparare e imparare, comunicare, le competenze ovviamente sociali e civiche e lo spirito di iniziativa. Quindi insomma la domanda se intendono replicare, ovviamente la risposta è stata positiva, produzione di cartelloni e materiali che possono essere utilizzati anche per le classi successive.